Il fatto è che ci sono italiani e italiani. Perché? Non ti piacciono? Adesso, Maric, per la miseria, dico davvero. È stupendo stare a casa e stare con un po' di vecchi amici che non vedi da parecchio tempo. Fare due chiacchiere. Come stavo dicendo, è come se il tempo non fosse assolutamente passato e li avessi visti ieri. Al, non nasconderti. Questo è il set. Stanno girando un reality successo. Ciao, Al. Ehi, amico, che bello vederti. Ti trovo bene. Al Pacino e io ci siamo conosciuti nel 77. Lo volevo tanto nel film Taverna Paradiso con me. Ovviamente era impegnato a essere il grande attore che... Davvero interessante. È come se fossi appena entrato nel mondo spallone. È così. Ed è meraviglioso. Però siamo sempre rimasti in contatto. Lo rispetto profondamente e so che alla fine faremo un film insieme. Sei stato... Ci fai il gangster italiano? Puoi farlo per noi? Ma non me lo ricordo più. Come si faceva? No, ti prego. Io ho la sensazione che... Dammi un paio di battute. Mitraccini di nuovo dentro! Mitraccini di nuovo dentro! Dove... 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 Grazie a tutti.